Un posto al sole, siamo sicuri che Roberto meritava, davvero, il perdono di Marina? Di fronte all'inganno di Lara, Roberto e Marina ritrovano la serenità e la volontà di affrontarla insieme. Eppure la facilità con cui la signora Giordano ha perdonato il marito dopo averla tradita e accusata di aver voluto fare male a un bambino ci lascia perplessi se il 18 settembre avete visto su Rai 3. La puntata di Un posto al sole in cui Lara Martinelli bussa alla porta di Roberto Ferri per chiedergli di ricucire il loro rapporto e dietro di lui compare Marina Giordano. Con una di quelle vestaglie di ciniglia che indossano i pugili prima di salire sul ring, è molto probabile che abbiate fatto un saltino di gioia. Sono settimane, infatti, che non sopportavamo che Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, fosse caduto nella trappola intessuta da Lara, Chiara Conti. Che non solo gli ha fatto credere che il bambino di cui si prende cura fosse sua ma è anche riuscita ad allontanarlo da Marina, Nina Soldano. L'unica donna che ha davvero amato, vedere la faccia sperduta di Lara, un essere talmente mefistofelico da avvelenare un bambino innocente affinché Roberto si legasse di più a lei. Al cospetto di una Marina finalmente presa sul serio è stato per i fan di un posto al sole una goduria paragonabile solo alla vittoria della nazionale e ai mondiali. Eppure, a guardare bene, qualcosa non ci convince come dovrebbe. Siamo tutti d'accordo che questa scena abbia finalmente messo la parola fine agli oscuri piani di Lara. Per, rilegarsi a Roberto, ma siamo certi che Marina abbiamo fatto bene a perdonare Roberto tanto presto? Pensiamoci bene. È da quando Lara è ricomparsa sulla scena con il bambino che ha sempre sostenuto essere di Roberto che Marina ha cercato di mettere in guardia il marito ma quest'ultimo. Marina ha sbagliato a partire per l'Inghilterra, concedendole autonomia, ma non dimentichiamo che Roberto, durante questa assenza, ha deciso di stare fianco a fianco con Lara pur avendo il coraggio di nascondere alle sue spalle quello che abbiamo fatto a Marina. Alla donna che aveva appena sposato, ha sempre preferito credere alla sua acerrima nemica. Come i fan di un posto al sole sanno bene, questa relazione ha portato a una spaccatura sempre più profonda che è culminata con Marina che ha scoperto la verità sul figlio di Lara mentre cercava di dimostrare a Roberto che Tommaso non è suo figlio. Peccato che qui tutto sia andato storto, perché Roberto non ha esitato a sostenere Lara. Credendo che Marina, nel tentativo di estrarre un campione di DNA per dimostrare la falsa paternità, avesse reali intenzioni di ferirlo. Questo di per sé è forse la cosa più calda e spreggevole di tutta questa vicenda, come poteva Roberto pensare anche solo per un istante che sua moglie, che aveva conosciuto per innumerevoli migliaia di episodi, avrebbe voluto fare del male a Tommaso. Una persona sana di mente. A quel tempo, avrebbe giustamente abbandonato quest'uomo, lasciandolo al suo destino. E così fece Marina, cedendo solo quando Roberto si rese conto del suo errore e gli chiese perdono. Tutti sono felici per sempre, ok, ma a quale prezzo? Marina perdonerebbe davvero da un giorno all'altro. Un uomo che non solo l'ha tradita con il suo nemico mesi dopo il loro matrimonio. Ma l'ha anche accusata di essere un pervertito? Ecco qua, cari telespettatori di Un Posto al Sole, noi della Marina vorremmo avere la schiena più dritta. Avrebbe potuto lasciare che Roberto si riscattasse al momento giusto per espiare i gravi torti che le aveva fatto e poi formare un fronte unito contro Lara, ma non è stato così. Speriamo che Roberto, in questo momento, sia grappi a Marina, comprendendo la grande donna che ha scelto per accompagnarlo, altrimenti basteranno pochi istanti prima che invaderemo il Palazzo Paiadini e trasformeremo One Place nel Sole e in One il posto è stato attaccato. Grazie a tutti.